la bambina selina ciao oggi andiamo in piscina c'erano già degli ombrelloni qui ma mi hanno fatto comunque portare un ombrellone ecco figliolo questo è tuo figliola questo sembra un galleggiante è per te io sarò vicino alle piante ecco la borsa oh aspetta sei pronta 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 andiamo allora fratellone che c'è selina hai dimenticato di gonfiare il galleggiante bene allora dov'è la pompa non so dove sia la pompa usa la bocca selina come faccio a gonfiarlo con la bocca ce la fai ce la fai e poi fai questo qui i pomodori sono già maturi i cetrioli sono andati nella direzione sbagliata mettiamoli a posto e cosa ci fa questo qui c'è una palla dentro lasciamo che i nipoti ci giochino cos'hai fatto hai rotto la finestra c'è una palla c'è una palla c'è una palla ecco nonno mettiti questo nessuno ti riconoscerà e io vado c'è una palla 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.